Certo, noi stiamo qui a dire con forza no alle fusioni obbligatorie e sì, come abbiamo sempre detto, alle gestioni associate fra comuni, alle unioni dei comuni e anche le unioni dei comuni che favoriscono anche processi di fusione, laddove i comuni, ma essenzialmente i cittadini, le vogliono fare. Non può essere assolutamente una legge calata dall'alto che fa una cosa del genere. Non può essere che i comuni, che si dicono piccoli perché hanno pochi abitanti, ma che sono molto estesi, perché i comuni della montagna, che sono di solito sotto i 3.000 abitanti, sono territori vasti. Il mio comune è 60 chilometri, è simile, anzi è più grande del comune di Rufina, che ha 10.000 abitanti. Il comune di San Godenzo, che ha 1.200 abitanti, è grande quanto il comune di Pontassieve. Quindi questi territori diventerebbero completamente sprovvisti di delega politica e di rappresentanza istituzionale. I cittadini non avrebbero più le persone con cui rapportarsi e credo sia un danno vero per la democrazia, oltre che un danno vero perché se non c'è una rappresentanza politica, molto probabilmente i cittadini abbandonano questi territori. Noi siamo, diciamo, si preserva l'abbandono di questi territori e il fatto che si sia lì, diciamo, quotidianamente a parlare con i cittadini, dà una garanzia a loro che, diciamo, l'istituzione bene o male funziona. Io dico questo. Non solo sono contro a questo decreto legge che praticamente dice aboliamo, fondiamo per forza le cose i piccoli comuni, ma sono perché si riabilita la proposta di legge sempre di un parlamentare PD Realaci, che dice aiutiamo i piccoli comuni, i piccoli comuni di montagna, perché è loro che preservano, appunto, giustamente questi vasti territori. Ecco, qui è l'assemblea. Volete preparare, oltre a un documento, qualche altro tipo di azione per farvi sentire? Ma penso di sì, perché non sarà l'ultima azione che noi vogliamo fare. Cioè, praticamente, questa è importante, questa assemblea, per farsi vedere e uscire fuori. Però, se ci sono bisogno di azioni più eclatranti, io sono convinto che le faremo. Sicuramente approveremo in tutti i consigli comunali ordini del giorno contro questa cosa.